Open Science, un termine che si sente sempre più spesso nella comunità scientifica. Ma cosa significa esattamente? La scienza è alimentata dai progressi nelle tecnologie e negli strumenti digitali, nell'intelligenza artificiale, nei big data, nell'internet delle cose, nella stampa 3D e nel calcolo quantistico, nonché da infrastrutture digitali e fisiche aperte come laboratori aperti, sistemi aperti, biblioteche, beni culturali, basi di conoscenza digitali, riviste ad accesso aperto e campus universitari aperti, riprogettati. Queste tecnologie e infrastrutture, così come le iniziative e le strategie di scienza aperta a livello europeo, nazionale e universitario, hanno a loro volta consentito alla ricerca di sperimentare, sviluppare e adottare nuove pratiche, principi e obiettivi della scienza aperta per affrontare le principali sfide sociali. Sia l'UNESCO che la Commissione europea si sono pronunciati in merito e definiscono la Open Science come un nuovo approccio per rendere la ricerca scientifica più accessibile e trasparente e per sviluppare congiuntamente soluzioni alle sfide globali. Si tratta di rendere i risultati, i dati e le pubblicazioni scientifici aperti e accessibili a tutti. Ciò consente ai ricercatori di tutto il mondo di collaborare, condividere le loro scoperte e lavorare insieme per risolvere le sfide globali. Uno dei pilastri della Open Science sono le risorse educative aperte. Le risorse educative aperte promuovono l'adozione di pratiche di scambio aperto. Altri elementi includono, ad esempio, pubblicazioni Open Data o Open Access. Per utilizzare correttamente tutte queste risorse è utile la conoscenza delle licenze aperte. L'idea comune alla base è la conoscenza dovrebbe essere condivisa, perché quando la conoscenza è condivisa, aumenta, la Open Science e le risorse educative aperte ci avvicinano a un mondo in cui la ricerca e l'istruzione sono possibili senza confini.